Per il vino Il colore che stanno vedendo è per la caloria Per la freddare si vedrà il vero colore Non la vediamo un po' grande E' molto importante vedere che non ci sono macchine Ora che è terminata la metteremo dentro un altro forno Abbiamo uno shop termine Domani è pronta per il proseguo Eccola qua E faremo vedere un bel cavallo qua Veloce, però questa ai cinesi non la sanno capire Non capirà mai, ma mai ricapirà con questo Oh wow Oh wow Il vino solo a Murano Il vino è raffreddando E ora vogliamo mettere il tutto Wow Anche questo lo raffreddiamo piano dentro Do you know him, Dave Jones? No No So there are toilets here You can have a look also You can use the toilet And I wonder if destination is going to be So how we do this Oh wait Okay Or we need to move Um Yeah All right concluding Sì, 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 sì Grazie a tutti. 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 Are we gonna go back to side or we can go on the other side? Ok. Grazie a tutti. Oh... I think... The other thing... 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 Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Siamo in l'area dove dovremmo essere? No. Alla dove andiamo? Siamo in grado. Abbiamo il tempo. Oh. E poi tornare in grado? Siamo in grado? Ok. Sì, magari c'è una crepe o qualcosa. Sì, dovrebbe essere qui. 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 Sape mai. Non c'è辦法. Vi un po' di uno. No, è ok. C'è un po' di uno. Tienesco. Tienesco. mmmm Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.